Ancora polemiche per l'autovelox installato tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud della strada provinciale 430, meglio nota come Cilentana. Alcuni utenti, infatti, dopo essersi visti respinti ricorsi da parte del giudice di pace, hanno deciso di ricorrere in appello al Tribunale di Vallo della Lucania. Il Comune farà opposizione, per questo l'Aggiunta Comunale ha stabilito di affidarsi all'Avvocato Giovanni Laurito, con studio legale in Vallo della Lucania. Quest'ultimo, si legge nella delibera, ha già acquisito specifica competenza in analogo contenzioso, scaturente da numerosi ricorsi presentati dagli utenti avverso verbali di accertamento della Polizia Municipale di altri comuni e ha proposto di valutare l'affidamento dei giudizi di appello proposti avverso le sentenze di rigetto da parte del giudice di pace. Il compenso per la difesa dell'ente sarà di euro 300 per ogni giudizio e nel caso di un numero superiore a 10 giudizi di euro 250, pari ai valori minimi del più basso scaione tariffario ulteriormente ridotto del 30%. 21 sono i ricorsi finora presentati. Nella maggior parte dei casi si tratta di utenti che hanno ricevuto più di un verbale.